Loro sono i Gloom, guardate bene con tre O, perché prima erano due O, eravate in due, poi si è aggiunto Ivan e quindi sono tre O, Gloom, andiamo a conoscerli un po' meglio. Allora, chi sono i Gloom? Siamo un gruppo di ragazzi che, formatisi nell'estate del 2012, abbiamo deciso di mettere insieme vari gruppi, vari generi musicali a nostro piacimento, senza un senso logico riconoscibile. Noi non abbiamo un basso perché cerchiamo di fare qualcosa di sperimentale di un po' diverso che non si vede molto spesso. Definire un genere diventa difficile, noi facciamo quello che ci piace. È buono, è buono, è buono. E' buono, è buono, è buono. E' buono, è buono, è buono. E' buono, è buono, è buono, è buono. E' buono, è buono, è buono. E' 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 buono, è buono. tutti i gruppi, infatti capita tutti i giorni. Allora, a questa domanda dobbiamo rispondere, cosa ci dobbiamo aspettare stasera? Spero qualcosa di buono, ho visto poco tempo in cui sono uscito a fare le canzoni che vengono bene. Ok, allora, ho ancora qualcosa da dire, scusate? No, non troppo. Allora, un applauso ai ciuffei! No, non troppo. No, non troppo. No, non troppo. No, non troppo. Ah, non troppo. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti